Circolo Tennis ospita la quarta edizione del Trofeo Città di Trapani, vedremo giocatori di altissimo livello. Sì, per adesso si stanno giocando le semifinali che vedono impegnati quattro atleti che giocano tutti in Serie A, quindi la massima serie del tennis italiano. Abbiamo Alessio Di Mauro, ex 68 del mondo, tutti i giocatori che giocano il circuito ATP che stanno facendo divertire il pubblico presente. È stato un torneo che ha visto la partecipazione di 140 atleti tra uomini e donne, tra le donne abbiamo anche Corinne D'Antoni, ex 132 del mondo e soprattutto abbiamo avuto la possibilità di vedere tanti giovani promessi del tennis siciliano e non solo. Noi speriamo che l'organizzazione di questo trofeo possa consentire anche ai giovani di avvicinarsi a questo sport, è un evento che ovviamente noi facciamo per promuovere la pratica sportiva e il tennis nel nostro territorio. Tra l'altro quest'anno cade nell'occasione del festeggiamento dei 40 anni del circolo e quindi abbiamo voluto una più folta partecipazione di atleti di alto livello. Questo pomeriggio alla finale maschile e domani quella femminile? Sì, questo pomeriggio a seguire diciamo verso le 12 dovremmo avere tra le 12 e l'1 la finale maschile, poi le semifinali femminili nel pomeriggio e infine domani la finale femminile che sarà vincente come le partite degli uomini perché anche lì ci sono atleti di grande livello.